Ciao ragazze, benvenute o bentornate sul canale se siete delle nuove iscritte oggi inauguriamo la rubrica Leap Cheese Se mi seguite da un po' sapete che ho fatto altri video swatch qui sul canale e sono sempre stati dei video che vi sono piaciuti tantissimo non solo qui su Youtube ma anche su Facebook e Instagram e per questo motivo ho pensato di realizzare questa rubrica interamente dedicata agli swatch che possono essere riguardanti come in questo caso dei prodotti labbra oppure di palette, di ombretti, di eyeliner, di fototinta diciamo un po' su tutti quei prodotti che possono essere swatchabili oggi lo sponsor di questo video è Pupa Milano e infatti andremo a swatchare insieme gli I'm Matte che se non li conoscete sono dei rossetti veramente meravigliosi le colorazioni fantastiche infatti non ve le descrivo perché le vedrete adesso nell'applicazione perché i colori parlano da soli quindi non c'è bisogno di descrizioni veramente trovate dai nude ai fucsia ai rossi cioè ragazze vi sono delle tonalità di colore bellissime e tra l'altro non mi aspettavo di avere questa reazione nel senso vi spiego bene quando ho sentito I'm Matte ho pensato subito a una formula molto secca sulle labbra perché solitamente se pensate dei rossetti opachi vi viene in mente una formula super secca e dura e in realtà quando sono andate ad applicarle ho notato veramente quanto fosse emolliente questa formula nonostante avesse poi un finish opaco quindi veramente sono due caratteristiche come dire opposte ma che si sono perfettamente unite all'interno di questi rossetti infatti come potete vedere sulle labbra indosso lo 0,10 ed è super opaco nonostante sia veramente bello confortevole sulle labbra e secondo me questo è dovuto a un ingrediente presente all'interno della formula che è il burro di mango selvatico ho visto che è un ingrediente emolliente e idratante per le labbra quindi ottimo non mi dilungo tanto perché come al solito parlo sempre a raffica quindi fatemi sapere nei commenti qual è la vostra colorazione preferita tra quelle che vedrete nell'applicazione e se non siete ancora iscritti al mio canale quindi basta con le chiacchiere vi lascio ad applicazione colore per colore qui che si Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.